In questo nuovo video della serie chiesti da voi vediamo come realizzare un ponte ad H utilizzando dei MOSFET Questo video mi è stato chiesto da Bartolo, spero di risolvere il suo problema Iniziamo subito Oggi vediamo come realizzare un ponte ad H utilizzando i MOSFET Partiamo da quello che già sappiamo, un MOSFET canale N che è quello che usiamo di solito Lo disegno qua sotto, quindi lo faccio con un simbolo semplificato, sembra più un FET Però diciamo, ce lo facciamo andare bene, poi dovrebbe esserci la freccina che va verso l'interno Quindi dovrebbe essere, se non sbaglio, fatta così Comunque, questo qui è il nostro MOSFET canale N, metto la N qua di fianco Quando vogliamo attivarlo, per esempio quando lo colleghiamo all'Arduino, lo colleghiamo in questo modo Questo qua dovrebbe essere, se non mi sbaglio, il Source, questo il Drain Lo colleghiamo verso Ground, quindi avremo qua una linea La preparo perché poi ci lavoreremo intorno Per evitare che scatti in modo casuale, quindi prenda il rumore Mettiamo anche un resistore da 10K, lo mettiamo qua 10K che lo tiene ancorato al Ground Poi qui arriveremo con il segnale che lo farà attivare A questo scatta quando abbiamo un segnale positivo La sua controparte è il MOSFET canale P, che funziona esattamente al contrario Quindi possiamo andare a disegnarne uno, lo mettiamo qua sopra Andiamo a metterlo qui, questo sarà il canale P Adesso vi do anche qualche sigla di riferimento Con il suo gate da questa parte Avrà la freccia che andrà verso l'esterno Vi ricordo sempre simbolo semplificato, ma per capire va più che bene Source Drain Il Drain lo colleghiamo qui sotto in comune con il source dell'altro MOSFET Qui andiamo verso la linea di alimentazione positiva Che sarà poi l'alimentazione che utilizzeremo per far andare il motore Se vogliamo usare il ponte H per un motore, quindi magari abbiamo i 12V Qua funziona al contrario, quindi avremo una resistenza, è proprio speculare Che lo tiene ancorato al 12V In questo modo qua Resistenza 10K va più che bene E questo qui è il suo ingresso Dovremmo pilotarli in modo opportuno Adesso andiamo anche a vedere come Quindi qui in mezzo lascio due morsetti E andremo a collegare il nostro motore Dalla parte destra avremo una situazione analoga Con un altro MOSFET Sempre canale P Adesso qui c'è alta probabilità che faccia qualche errore sicuramente Comunque questo qui è il nostro P Sotto andremo a collegargli un altro MOSFET a canale N Adesso in questo modo E poi il tutto arriva qui sotto a ground Gli mettiamo le resistenze Da una parte il 10K E da quell'altra sempre il 10K Che lo porta verso ground Con funzione analoga Hanno le funzioni come dire invertite Sono speculari Dovremmo per far funzionare il tutto Dovete vedere questi come degli interruttori Quindi se io voglio far ruotare il mio motore In senso orario Metterò qua la tensione positiva Questo qui lo collego verso ground Quindi dovrò fare in modo che Questa parte qui Se si comporta come un interruttore Sarà chiuso Quello sotto sarà aperto Quindi manco lo disegno Qui avremo il motore Dall'altra parte avremo la stessa cosa Quindi il MOSFET disegnato come interruttore Chiuso Questo fa circolare la corrente Dal nostro 12V All'interno del motore in questo modo Va verso ground Il motore gira in un senso Quando andiamo a attivare gli altri due Quindi scollegheremo questi Andremo a attivare gli altri due Li faremo scattare In modo da chiuderli Chiudere uno Chiudere l'altro Spero non ci sia un po' di confusione Con i colori Però qua la corrente ve la faccio in verde La corrente qui entrerà Scorrerà nel motore nel senso opposto E quindi lo farà girare in senso anti-orario Il gioco è questo Quindi dovremmo sempre attivarli In diagonale Quindi questo attivo Assieme a questo E viceversa Possiamo andare ad applicare dei segnali Usando quattro fili Che arrivano dall'arduino Però Trovate in giro degli schemi Che vi aiutano un po' E quindi tirano fuori solo due segnali In modo che sia un pochino più pratico E lo possiamo fare usando per esempio Un transistor Che mettiamo qui all'ingresso Questo transistor Avrà il suo emettitore Quindi è un NPN Emettitore collegato a ground Dall'altra parte Sfruttiamo la resistenza Di 10K Che abbiamo qui E portiamo il segnale da questa parte E noi entreremo qua Questo morsetto che chiamo A Sulla base del transistor Per generare due segnali Qui resistenza possiamo usare da 1K Questo qui è un Per esempio Un NPN Tipo il 2N3904 Non mi ricordo la più di natura Ma dovrebbe essere un EBC Nessun Controllate poi Dovrebbe essere fatto così Con EBC Se lo vedete lato piatto Da verificare questo Dall'altra parte colleghiamo un altro transistor Con funzione analoga Sempre con resistenza E qui il morsetto B Da questa parte lo colleghiamo qui Sfrutteremo quindi questa resistenza da 10K E questa qua L'emettitore lo collego verso ground Ma c'è qualcosa che non vi torna ok Perché non abbiamo collegato I due gate dei transistor di tipo N Perché? Perché vogliamo dare una specie di automatismo E far sì che questi si attivino Sfruttando i segnali che vengono applicati Quindi noi andiamo a controllare con il nostro transistor I MOSFET di tipo P E poi in seguito al segnale generato Andiamo a pilotare il MOSFET di tipo N Quindi immaginiamo di pilotare il segnale A Gli diamo un segnale alto Per come funziona il transistor Arriva un segnale alto Quindi faccio entrare corrente Questa è una saturazione Il punto A è l'O Quindi se A è l'O Il transistor chiamiamolo 1 Il transistor 1 è acceso Quindi 1 è acceso Vogliamo che il 3 sia off Che il 3 sia spento Questo è il 3 Questo è il 2 E questo è il 4 Quindi se A è l'O Allora avremo che il transistor 1 è acceso Perché è di tipo P Quindi funziona al contrario Per far girare il motore in un certo senso Applicherò di qui invece un segnale basso Quindi qua avremo un segnale basso Vuol dire che questo transistor qui Il nostro 2 Il 2 sarà spento Quindi il 2 sarà off E dovremo fare in modo Che quelli sotto il 3 e il 4 Siano il 3 spento E il 4 acceso Come facciamo? Usiamo due resistenze Che andiamo a collegare Possiamo prendere un valore Per esempio da 4k7 E mettiamo una qua Quindi la vado a collegare in questo modo Questa è 4k7 E la vado a portare sul gate La porto qua Un'altra la farà nello stesso modo Sarà collegata da questa parte Sempre da 4k7 Sempre da 4k7 E va sul gate Dell'altro transistor di tipo N Facendo così riesco a Attivare con un segnale solo Perché? Riguardiamo un attimo la tabella Metto A uguale alto E B uguale low Questo si traduce in un A uguale low E B da questa parte sarà alto La low da questa parte Fa sì che l'uno si attivi Dall'altra parte avremo il 2 Invece spento Quindi se questo qui è attivo È come se fosse chiuso Quindi abbiamo qui una tensione Che viene portata Sul gate del 4 E quindi il 4 viene acceso Viceversa nel caso contrario Questo ci permette di far cambiare Il verso della corrente Attraverso il motore Nel video per provarlo Io invece che il motore Ho messo due led Quindi vedrete Due ledini Uno verde E uno rosso Tutte e due hanno Un resistore da 3,90 Che sono montati in questo modo Quindi uno è messo così E l'altro invece al contrario Così che Quando attivo da una parte Si accende verde E attivo da quell'altra Vedrete rosso A e B li collegheremo A due pin PWM di arduino Quindi da una parte a 10 E da quell'altro Per esempio al pin 11 Li rappresentano Queste due frecce Dall'arduino Collegheremo poi Il ground In comune E il 12 volt Arriva da un alimentatore esterno O che transistor Ho utilizzato? I MOSFET di tipo N Ho usato degli IRF I MOSF540 Che hanno un case TO220 Con l'aletta dietro I tre pin Sono messi tutti Nello stesso modo GDS Quelli di tipo P Sono degli IRF9540 IRF9540 Questi sono di canale P Hanno la stessa Pi di natura GDS Quindi state attenti Non confonderli Rapidamente Vi ripeto qua Lo schema di connessione Con l'arduino Arduino è questo Abbiamo il ground Il nostro driver Lo rappresento come un box Abbiamo solo A E B Poi Avremo i due morsetti Che vanno Al motore Quali tiro fuori In questo modo A cui abbiamo collegato I led La linea positiva D'alimentazione Io l'ho messa Più 12 volt Dipende poi Dall'alimentazione Del motore Questo nostro circuito Avrà in comune Solo il ground Con l'arduino E poi A e B Li andiamo a collegare Ai pin 10 E Dall'altra parte Avremo l'11 Che va Sul B Occhio Se alimentate a 12 volt Che per i led La resistenza da 3,90 È un po' troppo poco Io ho messo così Ma Se andate a 12 volt Ci vuole per esempio Da un K Quindi correggetela Di conseguenza Andiamo a vedere Lo sketch Molto semplice Non servono Né librerie Né niente altro Nel setup Prepariamo i pin Con pin mode 10 output Anche se poi Dopo li Pilotiamo in pvm Quindi dovrebbe funzionare Lo stesso Su l'arduino 1 Comunque noi Per sicurezza Li definiamo Come uscite Nella parte loop Andiamo A definire Le variazioni Facciamo Uno sketch Che fa Un po' di cose Come faccio Per farle ruotare In un senso Usiamo Digital Write Imposto Un pin alto E l'altro basso Quindi mettiamo 10 Per esempio Ai E l'altro pin L'11 Lo mettiamo basso Così ruota In un verso Gli mettiamo Una pausa Lo facciamo andare Per due secondi Dopo due secondi Quindi Delle 2000 Cambio E gli mettiamo E gli mettiamo Uno stop Per farlo stop Metto Tutte e due Allo Tutte e due I pin Li mettiamo Allo Così si blocca E il motore Si ferma Lo faccio ruotare Nel senso opposto Basta cambiare Lo stato Dei pin Pardon Ho già fatto un errore Qua devo mettere Un pin alto E l'altro basso Ok Altrimenti Non funziona Tutte e due Lo Abbiamo lo stop Copio Le prime tre righe Le mettiamo qui Cambio il verso Quindi avrò Il primo Lo E il secondo Ai Così ruoterà Nel senso opposto Per fare stop Gli mettiamo Di nuovo Un lo Lo E poi proviamo A dargli Una variazione Con Un pvm Allora Qua gli mettiamo Un altro stop Mettiamo un altro stop In fondo Tra questi due stop Proviamo A far variare La velocità del motore Come facciamo Allora Impostiamo Un pin Lo mettiamo Immaginiamo Di voler ruotare Che ne so In senso Orario Quindi siamo In questo caso qua Dico orario Poi dipende Come collegate il motore Quindi un pin Lo metto fisso E quell'altro Lo faccio variare Con un ciclo for For Int I uguale 0 I minore Di 256 Quindi così I va da 0 255 I più più E qua Andiamo a Impostare Il digital Il digital write Facciamo il ctrl c Ctrl d Il pin 11 Non sarà più Un digital Ma analog Perché usiamo Il pvm Analog write 11 Invece che ILO Gli mettiamo I Per dare Visibilità Mettiamo un delay Di 10 E poi qua sotto Abbiamo Lo lo Che fermiamo ancora tutto Quindi compiliamo Carichiamo sull'arduino E vediamo se funziona Ecco qua Vedete Una direzione Stop Altra direzione Tutto fermo Pvm Poi stop E riparto Qua vedete Sulla breb Ho cercato di essere Molto ordinato Questi sono i 4 Mosfet Collegati con L'arduino E l'alimentazione esterna L'alimentato 12 volt E sui led Vi ho detto Ho messo 1k Come resistenza Lo schema Che avete visto È un po' Uno standard Allora Si ricorre Ai mosfet Di questo tipo Quindi Come componenti Discreti Nel caso Siano necessari Particolari potenze O particolari accorgimenti Altrimenti Se non avete Esigenze particolari Potete utilizzare Alcuni di quei driver Già pronti Sono nella forma Di chip Con a let O senza Che vi permettono Di semplificare Un po' Tutto il cablaggio Che avete visto Bene Spero sia stato Interessante Se avete altre richieste Fatemela avere O nei commenti O mandandomi Una mail Su zeppelinmaker.it Vi saluto Vi ringrazio Ci vediamo domani Ciao